signora cosa fa settimana prossima il 2 e il 3 di dicembre cosa fa? ah no loro ha cominciato a fare i capelletti per Natale lei deve venire a Senigallia la spiaggia di Velluto deve venire la spiaggia di Velluto ci vorrebbe cosa fredda a far l'amore cominci tu? ecco qui ormai io sono venuto da 13-14 anni io non faccio più niente sono i capelletti no lo spettacolo deve fare signora l'aspettiamo il 2 e 3 dicembre tu aspetta se mi vedi bene se no ti attacchi al tram al teatro portone al portone al portone andiamo su andiamo preparala fa la vestire si vede per le gambe al portone al portone al portone al portone al portone il suo